Ciao a tutti, mi raccomando, tanti tanti auguri di Buon Natale a tutti, da parte mia, della mia famiglia, di tutti, insomma, mi raccomando, spero siate stati buoni quest'anno, così almeno Babbo Natale ci porta qualcosa di bello, mi raccomando, noi ci si fa tanti auguri, siamo contenti di stare qua, siamo contenti di fare questo viaggio insieme a voi e siamo sicuri che ci divertiremo tanto, questo è poco ma sicuro, sempre con entusiasmo, maraviglioso, Buon Natale a tutti!